Uffa, che brutta giornata per visitare Palermo Beh, sarà sempre una bella esperienza visitare il centro storico Eccoci arrivati Finalmente su Pimmino Scopetto e di in giro sotto la pioggia Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Peccato che stai finito il tour della città E ti dicevo, nonostante la pioggia è stata un'esperienza positiva di crescita acquittorale Anzi, ti dirò di più Da grande parola, guida tu lì Questo video è stato realizzato dalla seconda...